Bentornati al nostro tutorial dello sportello info.tecnologia le buone pratiche in circolo per una tecnologia smart oggi parliamo di immagini e soprattutto come utilizzare le immagini sempre più spesso ci capita di dover inserire delle immagini delle relazioni di lavoro, scolastiche oppure per divertimento anche su alcuni video che poi postiamo in rete dobbiamo stare attenti perché le immagini che troviamo normalmente sui motori di ricerca anche esse sono tutelate dal copyright quindi per non avere problemi vi faccio vedere come selezionare le immagini che non hanno la copertura e che possono essere riutilizzate da tutti quindi quando io faccio una ricerca sul motore di ricerca Google che è lo strumento che ci aiuta in questo per esempio se volessi fare una ricerca sui pappagalli e inserire delle immagini cliccherò una volta inserita la parola inserirò il menu immagini e qui mi si apre una schermata dove ho tantissime immagini ma non tutte queste immagini possono essere utilizzate come faccio a sapere appunto quale che posso utilizzare alla voce strumenti cliccandoci sopra si aprirà un piccolo sottomenu dove c'è scritto la parola diritti di utilizzo cliccando sopra io dovrò contrassegnare tutte le immagini che potranno essere utilizzate appunto baffando la parola contrassegnate per essere riutilizzate cliccandoci sopra Google mi apirà una nuova schermata dove appunto le immagini presenti potranno essere utilizzate liberamente bene se avete dei dubbi da chiedere potete rivolgervi scrivendo una mail appunto a info.tecnologia.arci chiocciola gmail.com alla prossima vi saluto